E' stato recapitato purtroppo un regalo poco gradito per tre famiglie del capoluogo, a ridosso del giorno di Natale ancora furti. Le festività infatti non hanno fermato le azioni predatorie. Tra il 24 e il 25 dicembre uomini a volto coperto si sono introdotti all'interno di tre abitazioni, nel territorio di Biella, approfittando dell'assenza dei proprietari. Dalle prime informazioni raccolte avrebbero messo a soccuadro tutte le stanze e si sarebbero poi allontanati con un ingente bottino, che comprenderebbe monili in oro, denaro contante e argenteria. Rimane ancora da quantificare con esattezza il valore del maltolto e ad indagare sull'accaduto naturalmente le forze dell'ordine. La raccomandazione è quindi ancora una volta quella di prestare massima attenzione quando ci si allontana anche per un periodo piuttosto lungo dalla propria casa. Sarebbe opportuno, così sottolineano le forze dell'ordine, incaricare qualcuno di vigilare o affidare allo sguardo dei vicini il controllo, che si rivela sempre molto efficace.